Come sto parlando, il Presidente dell'Associazione Lida è responsabile del Nucleo Interforce dell'area vesuviana, che sarebbe l'Associazione Guardia Ambientale Italiana Napoli Sud e Gazi, Guardia Ambientale Zoofile Italiana. Qual è la vostra attività principale? Nel campo di valutazione dell'ambiente, prevenzione, discariche abusive, protezione civile, e poi marginalmente ogni tanto organizziamo qualche evento per sostenere la nostra associazione. Ho capito, nel triste scenario vesuviano, voi come vi ponete? Noi stiamo cercando con le nostre forze di dare il possibile, se si vedono già le foto, di come ci hanno lasciato quest'area. La dell'area, diciamo, è una cosa che va al di fuori della vostra attività specifica. E' una cosa interessante quella di gestire questa ipoterapia, però a me quello che interessa è più che altro per la vostra attività sul territorio. Noi oltre a fare la vigilanza in questo momento e a denunciare degli eventi e delle situazioni che incontriamo... A chi le denunciate? Alla Procura della Repubblica Carabinina e qualche volta anche alla finanza, alla forestale, scusatemi. Per il resto siamo legati perché la Regione non ci attribuisce il decreto come guardia ambientale, come lei pensa si può informare, è tutto bloccato. Abbiamo solo un decreto come guardia ittica che è limitato solo alle acque interne, quindi immaginate nell'area vesuviana le acque interne... Quindi non fateci niente praticamente? Quasi niente, arriviamo solo a fiume Sarno oppure nell'area del lago Patrio. Saremo teoricamente già abbastanza a di fuori. Sì, per il resto noi cerchiamo con le nostre forze di fare tutto quello che è possibile per l'ambiente. Vabbè, innanzitutto io ho scritto ultimamente un paio di articoli su Braconaccio, ho scritto un articolo su Angelo Grisco, il bianchiere ucciso probabilmente da due bracconieri e io sono stato il 27 dicembre scorso sulla strada di Ottaviano, quello che è stare verso lo slaggo della legalità, la sparavano. Io ho un buoniziotto e abbiamo preso anche il numero di targhi. Negli anni scorsi l'associazione di cui sono presidente si è interessata tantissimo al bracconaggio. Basta vedere anche su Strisciare le notizie che ci sono molti articoli e via dicendo. Poi diciamo che in un gruppo ci sono sempre le mele marce e per questo la lida nazionale c'è un pochettino tagliato le ali e nella provincia di Napoli ha ritirato i decreti come guardia zoofila perché sono una guardia zoofila autorizzata fino a qualche mese fa dalla prefettura di Napoli. Non avendo più il decreto, oltre a denunciare e a vigilare, non puoi fare altro perché non puoi fermare, non puoi chiedere documenti e la legge che diciamo. Ma già questo sarebbe un'opera importante e potrebbe fare qualsiasi comune cittadina, però a maggior parte di cui... Noi vigilanza ne facciamo già in quantità a nostre spese e con il contributo di tutti i nostri volontari. Anni scorsi c'erano dei piccoli contributi dei comuni come il comune di Tre Case dove la nostra associazione deve avere ancora dei contributi già spesi. Vabbè, quindi questo è quanto riguarda il bracconaggio, è quanto riguarda il versamento dei rifiuti? C'è stato dei rifiuti, ci sono denunce ai carabinieri di Tre Case in quantità. Anche negli anni scorsi hanno incendiato un'area qua all'estate scorsa che c'è stato l'intervento dei vinciti del fuoco e dei carabinieri. Ma non pensate di avere un'azione di deterrenza? Magari frequentando di più il territorio? Ma qua ci sono dei nostri volontari in quest'area all'incirca per 13-14 ore al giorno. Noi vigiliamo, però ci sono degli orari che purtroppo chi fa queste cose sa quando non ci siamo. Noi abbiamo utilizzato, abbiamo fatto vigilante sull'area panoramica fino all'anno scorso 24 su 24. Noi andavamo via, passavamo dopo mezz'ora, tipo come le telecamere che ci guardano. Dopo mezz'ora trovavamo, come adesso ci sono dei rifiuti di auto sull'area. Solo che però purtroppo, essendo volontari, in fondo prima o poi finiscono. E se diciamo un comune, chi che sia non ti sostiene. Ma stare in un posto e vigilarlo, dandosi il cambio, non è che porti una grande spesa. Io l'ho fatto, io l'ho fatto agli astroni, per il VF facevo vigilanza anti-incendio. La nostra associazione continua a fare vigilanza, però ha bisogno anche di sostegno. Abbiamo auto, mezzi e per mantenere queste auto e mezzi bisogna di sostegno. I ragazzi più di dare un contributo hanno, non possono fare altro. Noi abbiamo chiesto un sostegno a chiunque. Non è che chiediamo soldi, noi chiediamo le cose giuste che stiamo per far andare avanti l'associazione. Io sono d'accordo con quello che dite, perché comunque sappiamo benissimo che le istituzioni, oltre ad essere presenti, sono anche piuttosto partimoniose nel reagire ai fondi. Però io sono anche io un volontario. Il club alpino italiano, io non prendo una lira, anzi molto spesso ci ha rifondito. Ma neanche noi, noi rifondiamo tutti i giorni. E non per questo voglio dire. No, ma la nostra attività è sempre continua. Noi cerchiamo un sostegno per fare meglio di quello che facciamo. Perché se uno ha un contributo in più, cioè le cose si possono fare molto meglio. Invece di avere una macchina che noi in questo momento ci scadrà l'assicurazione fra poco, e sto battendo la testa per tutto, come fare per recuperare i soldi. Una volta che scade l'assicurazione, e l'associazione non ha soldi, quella macchina non potrà più camminare. Cioè, quindi dovremmo utilizzare delle auto personali. E' una cosa girare con l'auto dell'associazione, dove c'è scritto guardia ambientale, vicino, è un retendente in più. Ma se voi vedete un'auto normale, penso che uno non ci fa neppure caso. Ho capito. Va bene. Quindi le vostre prossime azioni per il futuro, quale potranno essere? Vigilanza continua, sia come incendi boschivi e deposito di rifiuti pericolosi, come si vede adesso su questa panoramica, e fare tutto quel possibile che c'è per l'ambito. Poi stiamo organizzando un evento, speriamo che va bene. Il contributo che si avrà da questo evento lo investiremo nell'area, è per sostenere l'associazione. Grazie. Grazie.